È un collage di brani, alcuni noti e alcuni meno noti, che sono poesie, pièce teatrali, tutti collegati dal fil rouge della serenità. Vogliamo trasmettere speranza nel riconnettere le arti e quindi nel tornare, nel riaprire un nuovo anno di attività artistiche, il fil rouge appunto che sia la gioia e la voglia di tornare a fare. Il mondo della danza, quello della musica e del teatro si incontreranno all'Anfiteatro Romano. Riconnessioni artistiche è infatti il nome di un originale progetto che è andrà in scena giovedì 9 settembre alle 21, nato dalla collaborazione tra tre realtà storiche aretine, la Libera Accademia del Teatro, Alfa Ballet e Jazz Club Arezzo. Abbiamo studiato molto per poterci intersecare alla musica jazz, perché la musica jazz è difficile da seguire, è stato difficile sia per i musicisti che per i ballerini, però alla fine è nato un connubio molto bello e abbiamo preparato una cosa proprio veramente artistica e ci tengo a dire molto difficile. Ci siamo riusciti provando quasi tutta l'estate e grazie appunto al Jazz Club e ai nostri danzatori siamo riusciti a fare una cosa molto molto bella, molto interessante di musica contemporanea e classica.